Wabalaba Dab Dab e bentornati su No Mamamazzo e bentornati nella rubrica Trailer Reaction Come un altro fulmine a ciel sereno è uscito l'ennesimo trailer a sorpresa della fase 4 del Marvel Cinematic Universe Sto parlando del trailer degli Eterni Eternals in inglese E come ogni martedì o Marvel D ormai soprannominato andiamo a vederlo insieme e commentarlo Via! Sembra quello della... Non sai che è la tachyperina? Questi sarebbero i primi umani sulla Terra Non sono già loro Questi Eterni Scena che cita il gladiatore E suggerito Li abbiamo aiutati a progredire E li abbiamo visti Compiere Meraviglie Nell'arco degli anni Non abbiamo mai interferito Grazie C'è anche... C'è anche Jon Snow che non sa nulla Grazie di tutto Figurati Ora che Captain Rogers e Iron Man non ci sono più Chi guiderà gli Avengers? Potrei farlo io Quindi son... Ok Allora Trailer che mostra Niente Se non si sa chi sono gli Eterni Ma mostra alcune cose interessanti Se un pochino si conosce la loro storia Con scena diciamo post credit del trailer In cui si nominano gli Avengers Per far capire a chiunque Che sono collegati al Marvel Cinematic Universe E che questi personaggi che gli Eterni Sanno dell'esistenza degli Avengers Ovviamente Avendo sorvegliato come loro stessi dicono Per tutta l'esistenza È ovvio che sanno anche degli eroi che hanno salvato la Terra Ok Ma il dubbio era Che fossero in qualche modo Addormentati diciamo Per qualche ragione O appunto che avessero perso la memoria Per qualche ragione Perché Nei fumetti se non sbaglio Era capitato qualcosa del genere Allora Film di cui io non ho assolutamente nessuna hype Non conosco i personaggi fumettistici Non me ne frega niente Però Non conoscevo nemmeno i Guardiani della Galassia E sono tra i film più riusciti del Marvel Cinematic Universe E sono tra i personaggi più simpatici del Marvel Cinematic Universe Qui ovviamente Il taglio è un altro Qua si va quasi nel fantasy puro Si dà una retro struttura alle origini del mondo Del mondo Marvel Ma comunque della nostra Terra Molto più fantasy Quindi fondamentalmente questi sono Per noi sono come degli dei Anche se tecnicamente sono stati creati dagli dei Sembra che sto parlando del Signore degli Anelli Dei Valare e dei Maiar In realtà Non è proprio così Però se non sapete chi sono gli Eterni Vi spiego brevemente Per quanto io possa essere breve Come sono nati Allora Dovete sapere che gli Eterni Sono una versione degli umani Che all'alba dei tempi Sono stati migliorati dai Celestiali Chi sono i Celestiali? I Celestiali sono degli esseri appunto Che stanno nello spazio Quindi nella volta celeste Oltre alla volta celeste Di cui abbiamo già visto un Celestiale Abbiamo visto Ego Se non sbaglio Il pianeta vivente è un Celestiale Che poi era pure cattivo Il Teschio di Nowhere È la testa di un Celestiale Che è morto Quindi abbiamo già avuto a che fare Con i Celestiali Questi Celestiali All'alba dei tempi Sono arrivati sulla Terra Perché la Terra si vede che È un crocevia È l'autogrill dell'universo Passano tutti dalla Terra E hanno migliorato la razza umana Creando O meglio Hanno migliorato Scusate La razza ominide Dalle scimmie Hanno creato tre razze Gli umani I Devianti E gli Eterni Gli Eternals Gli Eterni appunto Sono questi Questi esseri Umanoidi Quindi dall'aspetto umano Che hanno dei poteri Che fondamentalmente Hanno tutti gli stessi poteri Che possono riguardare La trasformazione Della materia O la Non so se La modifica O di se stessi Una roba del genere Ma ognuno Si è impegnato A migliorare Un aspetto In particolare Del proprio Del proprio potere Perdendo Le altre Le altre capacità Dicendo Non essendo Padrone Maestro Degli altri poteri Che tutti Gli Eterni Hanno Faccio un esempio Tutte le tartarughe ninja Sanno usare Tutte le armi Delle tartarughe ninja Ma ognuno È maestro Nella propria arma Più o meno È la stessa cosa Per i poteri Degli Eterni Gli Eterni Guarda caso Si nascondono Da millenni Dalla razza umana E vegliano su di loro Come hanno detto Nel trailer Aiutandoli a migliorare A evolversi Quindi ricordano Vagamente Degli Dei pagani In un certo senso Oddio Gli dei pagani Non tanto Però ricordano Delle divinità In un certo senso Delle divinità Terrestri E guarda caso Oltre a nascondersi Oltre a non essere A non lasciare Nota La loro esistenza Sono anche in lotta Con i loro eterni nemici I devianti Guarda caso Onestamente Se vi sembra qualcosa Di già sentito È perché A me Personalmente Ricordano molto Anche un po' Le origini degli inumani Gli inumani Sono esseri umani Che sono stati Modificati Dai Cree Che sono degli alieni Non sono i celestiali Ma è sempre gente Che viene dallo spazio Modifica il DNA umano Con le nebbie terrigine Nel caso degli inumani E dà poteri Agli inumani Anche gli inumani Si nascondono Agli occhi del mondo Si nascondevano Se non sbaglio Sull'Himalaya I celestiali Scusate Gli eterni Invece Sono mescolati Tra la gente Però si nascondono Per quanto riguarda Gli inumani Non sono in guerra Con nessuno Ma è storica La guerra tra i Kree E gli Skrull Che abbiamo anche visto In Captain Marvel E gli inumani Sono anch'essi parte Dell'attuale Marvel Cinematic Universe Perché hanno avuto Una serie televisiva Di poco successo Che però comunque Dovrebbe È canonica Nel senso che Anche le serie Decanonizzate In realtà Non Sanno comunque Dentro nel Marvel Cinematic Universe Nessuno ha messo Una croce Sopra nulla Neanche Ai Defenders Della Netflix Oltre a ricordare Oltre a ricordare Gli inumani Ovviamente Ricordano un po' Anche gli X-Men Cioè degli esseri umani Che hanno sviluppato Dei poteri Ovviamente Non sono stati sviluppati In maniera innata Data dall'evoluzione Naturale Dell'uomo Ma sono stati Un pochino spinti Dall'essere Sovrannaturale Proprio per questo Appunto Si prende una piega Molto fantasy Molto Molto divina Perché Appunto È vero Sono esseri alieni Che hanno aiutato La razza umana A evolversi Ma con un non so che Di divino Si sa Che comunque Come abbiamo visto Anche per Gli dei norreni Nel mondo Marvel Gli alieni Sono considerati Dei Dall'antichi Esseri umani Quindi Thor Che tecnicamente È un alieno È allo stesso tempo Considerato Una divinità Norrena Ripeto Non ho molto hype Per il film in sé Ma Sono molto curioso Di vedere Tutta questa sfilza Di attori Come Angelina Jolie Salma Hayek Jon Snow E suo fratello Stark Ki Tarrington E l'altro attore Di cui non mi ricordo Il nome Entrare A gamba tesa Nel Marvel Cinematic Universe E vedere Poi come interagiranno Magari Nei film futuri Corali Non dico Nei film futuri Degli Avengers Perché non sappiamo Nemmeno se i film futuri Corali Saranno Gli Avengers Magari saranno Qualcos'altro Lo vedremo al cinema A novembre Di quest'anno Del 2021 Quindi avremo già visto La serie tv L'occhio Avremo già visto Il film Di vedova nera Ovviamente per chi mi segue E oggi aspettava Il video Di Spider-Man 2 Di Sam Raimi Ovviamente lo spostiamo Settimana prossima Oggi ci siamo dedicati A questa trailer reaction Settimana prossima Se non uscirà Nessun altro trailer Nessun'altra novità Parleremo Di Spider-Man 2 Di Sam Raimi Io vi ringrazio Per avermi seguito fino a qui Come sempre Con l'inchino E con l'imbuto Vi saluto E vi dico Arrivederci Al prossimo video Grazie a tutti Grazie a tutti